Rimani aggiornato sulle notizie di gossip, cronaca, reality show, sport ed altro. Iscriviti al canale Notizie Flash. Sofì era stata chiamata a parlare nel confessionale. Ha insaputa sua. All'interno c'era anche Alessandro che la tendeva senza vestiti. A confermarlo è la stessa Sofì che raccontando a Giacomo Urtis ha confessato di essere finita con Alessandro nel confessionale quando non indossava vestiti. Solo i telespettatori più attenti sono riusciti a captare le parole di Sofì verso Giacomo. Dette nella serata in cui Alessandro ha fatto da DJ la sera di sabato 18 dicembre. La stessa in cui abbiamo beccato Basciano fissare il lato B di Jessica.